namaste io sono mister brave ben ritornati ad un altro episodio di sneak peek la rubrica che esce quando mi pare che vi mostra però un gioco divertente che potrebbe diventare una serie sul canale oggi giochiamo a beat souls nella sua versione 1.0.2 questo è un gioco del 2021 appena uscito dalla zoo corporation che mi ha concesso questa chiave ed è un rhythm game abbastanza interessante l'ho provato ho sbloccato già qualche canzoncina ci sono anche diversi personaggi come potete vedere sono abbiamo sbloccato ad esempio il personaggio di mei il personaggio di nene no scusate diversi personaggi e abbiamo sbloccato rinco come nostro personaggio anzi la scegliamo anche per questo giro qua quindi ciascuno di questi personaggi ha delle abilità particolari come potete vedere in alto c'è scritto che sono già di livello 4 perché ci sono un paio di cose ma fondamentalmente il gioco funziona non c'è uno story mode è proprio uno stage select come si fa nei vari dance dance revolution e rhythm game del genere in cui abbiamo diverse canzoni se vedete ho fatto ad esempio la prima dello stage di mei ce ne sono 5 6 7 8 9 10 sono di più di 10 ce ne sono 15 scusate ma poi ci sono gli stage di nene ci sono gli stage anche della signorina rinco e questi li ho fatti un po tutti ne ho fatti 10 in modo che ho sbloccato la sua perché sono le canzoni che sono piaciute di più poi c'è mei di nuovo eccetera eccetera quindi vedete che non è tantissima roba diciamo però è per farvi capire come funziona se mi ricordo alcune delle canzoni alcune delle canzoni funzionano molto meglio di altre quindi vedremo di di provarle vi faccio vedere intanto una canzone cercando di sentire dal suono se effettivamente era una delle canzoni che mi interessava questa doveva essere interessante questo è interessante fatemi ricordare si perché c'è anche la short version e la long version facciamo questo dai che è un excellent e così vi mostro anche come funziona se mi ricordo perché si ok più o meno già si capisce come funziona ma adesso ve lo spiego praticamente ci sono due colori ed è un tune sticks quindi dobbiamo è difficile parlare e giocare con tutto per la mente ma ci proviamo avrei dovuto iniziare con una canzone più semplice però fondamentalmente con vsd muovo il personaggio e con su e giù cambio il colore con spazio salto e con le freccine vado anche a spostarle quindi se premo destra e sinistra vedete che posso metterle solo la mia destra su e giù cambio colore abbiamo detto salta e quindi questo è più o meno come funziona il gioco quindi molto veloce molto rapido super colorato con alcune canzoni tipo questa funziona molto bene e con altre funziona molto male il ritmo purtroppo però su quelle interessanti ci sta qua c'è faccio godere un po' la canzoncina faccio godere un po' la canzoncina e quindi vedete che abbiamo su e giù per sbloccare abbiamo anche l'infinite mode questo è interessante abbiamo l'hell mode anche come situazione che non avevo sblocato prima c'è l'arcade e l'infinite mode abbiamo i filter quindi possiamo anche mettere diverse cose secondo la difficoltà la difficoltà è molto simile a quella di dance dance revolution con appunto dall'1 al 9 più o meno come difficoltà man mano che si aumenta se andiamo un attimo sullo stage forse c'è l'infinite mode di questa se facciamo l'hell mode ah c'è solo questa canzone proviamo l'infinite ah ok l'hell mode è l'infinite di questa ok ok questa è abbastanza semplice quindi vedete stando fermi e poi destra poi salto e così via insomma sinistra destra sinistra destra sinistra destra e poi ci possiamo muovere anche c'è il fever che appunto è la modalità in cui facciamo più danni del solito comunque accumuliamo più combo e qua addirittura abbiamo fatto game mobile perché ci ha colpito x volte e quindi un po' questo per mostrarvi come funziona il gioco in generale devo dire che l'ho trovato interessante ci sono alcune canzoni dove funziona molto male dicevo la cosa soprattutto se andiamo magari negli stage facciamo qualche altro stage suo questo è boundless nella versione completa troviamo questo vediamo se ci va bene sarà difficilissimo però ci proviamo o è la stessa canzone di prima mi sa non mi ricordo si è quella no ok dovrebbe essere abbastanza giusta ah ho perso abbastanza challenging comunque bello sfidante sto perdendo questa è fatta molto bene siamo molto peggio ok buono 110 combo non male abbiamo un nuovo record sto sbloccando un sacco di roba tra l'altro abbiamo sbloccato la versione hard di questo e oltre che allo stage 12 proviamo ad andare avanti con le canzoni giusto che vi ne mostro ancora un paio anche questa sembra a ritmo adesso attraggiamo giusto che vi ne mostro fatta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, pensavo molto più difficile però in realtà è andata molto bene, abbiamo sblocato ovviamente anche qua il prossimo stage. Fatemi vedere una delle canzoni, se non sbaglio era proprio questa che non funzionava, quindi fatemelo controllare un secondo. Sentiamo su? Ecco, sì, infatti. Vedete che non è proprio proprio a tempo. Giusto per mostrarvi anche la parte negativa magari del gioco però... È leggermente in ritardo un po'... Grazie a tutti. Non è difficile comunque da fare, nel senso che basta mettersi un attimo di impegno per beccare le note, però... È strano che in un rhythm game ci sia un po' di... di canzoni che non funzionino, insomma. Ah sì, è vero, c'era l'ultima nota che non mi ricordavo mai. Comunque questo è per farvi vedere più o meno il gioco, spero vi piaccia perché effettivamente vi lascio il link in descrizione, ci sono alcune canzoni che funzionano, alcune un po' meno. C'è parecchio anche di multiplayer, se volete giocare in coppia su Steam, ci sono tutte le istruzioni lì comunque. Andate pure sul link che trovate, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.